Due, tre... Dai, li prendi che faccio le vision! Troppo un'altra esperienza del genere, lo siete? Quattro mila лайchi, signori? Nooo! Bene ragazzi, qua mi scuola e ben ritrovati nel mio canale, sono qui oggi... ... in quest'auto! ... in un po' di ragazzo. In ringraziamento ai 800.000, grazie. ... in un po' di un altro video di fare un intro... ... non male, c'è me la doda con il mezzo. Non so come chiamarvi. OI STANCE! OI STANCE! 800! Dobbiamo farci male per il gol, perché... ... siamo a tener di diversa, sputtateciami il like... ... e riscrivetevi e vi lascio la partita. 2, 1, 3, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Prendi, riprendi che faccio le visual! E ragazzi mi sa che entrano anch'io in cacolo. Pronti? 3, 2, 1... Il gioco più ignorante che esista ragazzi. Prendi che attacchi! 2, 2... 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 Non so perché ma entro a giocare Dici Io non vorrei essere in questo momento loro Lì No, la dono Commento del bomber Sì 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 8 9 9 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 13 13 14 14 15 Allora ragazzi abbiamo finito poco fa di giocare Non abbiamo più le bolle, siamo veramente distrutti Però è stata una bellissima esperienza Se avete un'esperienza del genere lasciate 50.000 like 50.000 like signori per il prossimo video passatevi al canale di tutti questi bomberissimi qua Che non troverete in descrizione ma dovete cercarli Find a youtuber Io sono Maurizio Manuel Lui è Leonardo Le Carli Esatto Che hanno partecipato anche gli altri C'è il cameraman C'è anche Silent Stripe signori Il grandissimo cameraman Il cameraman Il cameraman Il cameraman Il cameraman Deluxe signori Grazie Grandissimo Grandissimo Grazie a tutti per il supporto ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi 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 La 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 Grazie a tutti.